voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno meditate che questo è stato vi comando queste parole scolpitele nel vostro cuore stando in casa andando per via coricandovi alzandovi ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa la malattia vi impedisca i vostri nati torcano il viso da voi grazie a tutti